La Giunta Comunale di Pesaro ha approvato i nuovi criteri per la formazione delle graduatorie dei nidi d'infanzia e dei servizi estivi 0-6 anni. Nuovi criteri che l'assessore alla crescita Camilla Murgia ha definito un cambiamento volto a rispondere alle necessità emerse dall'ascolto costante delle famiglie e degli uffici dei servizi educativi per conciliare tempi di vita con tempi di lavoro e supporto alla genitorialità. L'intento è quello di uniformare i criteri delle graduatorie di tutti i servizi comunali 0-6 anni, comprese le scuole dell'infanzia invernali. Saranno molteplici le condizioni che determineranno un accesso prioritario ai nidi e servizi educativi estivi, tra queste l'essere genitori minorenni o studenti delle superiori, novità introdotta per sostenere il diritto, dovere e l'istruzione. Nuovo anche il requisito che tiene conto della precarietà lavorativa. Sarà infatti assegnato un punteggio anche chi ha un contratto scaduto da un massimo di 180 giorni rispetto al mese in cui si effettua l'iscrizione al nido. La delibera introduce anche una diversa valutazione delle distanze casa-lavoro per i genitori pendolari. Verrà considerata la distanza del luogo di lavoro dall'indirizzo di residenza per creare maggiore equità, in particolare per chi proviene da zone più lontane dal centro pesarese. Un'attenzione rivolta anche alle famiglie composte da più bambini piccoli. Le novità prevedono di accordare, in caso di iscrizione contestuale di fratelli al nido, priorità d'accesso di entrambi nella stesso istituto. Ci sarà maggiore elasticità per i genitori che vedono i figli ammessi sia alla sezione primavera comunale sia al nido. Mamma e papà potranno infatti scegliere fra i due servizi entro una settimana dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di ammissione ai nidi. Si tratta di un modo per tutelare chi è rimasto in lista d'attesa e rendere più snelli gli accessi. Un obiettivo su cui l'amministrazione ha deciso di spingere, anche permettendo ai genitori di figli nella fascia 0-3 anni che sono in lista d'attesa e che non hanno espressamente optato per l'opzione di essere ammessi alla sezione primavera in caso di posti liberi.